Buongiorno, mi chiamo Raffaele Veta, vivo a Roma e sono un chimico e ho lavorato nell'industria farmaceutica in laboratorio di ricerca per molti anni e poi come responsabile della logistica di stabilimento. Sono da sempre appassionato lettore con interessi che vanno dai saggi scientifici ai romanzi, con una particolare predilezione per la fantascienza, il giallo e il misteri, e mi sono poi dedicato alla scrittura di racconti brevi e infine di un romanzo. 36 colori nel buio è il mio romanzo di esordio. È una storia il cui filo conduttore è Sara, una donna ebrea le cui tracce partono da Roma, dalla deportazione degli abitanti del ghetto nel 1943 e si disseminano negli anni per tutta Europa, a Praga, a Torino, a Vienna. Alla ricerca di Sara c'è Michele Grimaldi, un giornalista che ha ritrovato per caso a Roma un oggetto antico che è appartenuto a Sara e che sembra legarla a un segreto molto importante, un segreto che affonda le radici nel passato, nei miti biblici di Eden, della torre di Babbele fino agli orrori di Auschwitz e dei campi di sterminio nazisti. È un segreto rimasto nascosto nel buio per millenni, in attesa di tracciare un nuovo quadro della storia e del futuro dell'umanità. Nei romanzi, come nei film, troviamo personaggi apparentemente secondari, i cosiddetti attori non protagonisti. In questa storia, al contrario, Sara è una protagonista non attrice, una presenza volutamente nascosta ma sostanziale e rappresenta in fondo il ruolo cui gli uomini hanno relegato le donne nei secoli. 36 colori nel buio ha infatti una seconda chiave di lettura, che va al di là del romanzo giallo. Vuole essere infatti una metafora sull'importanza femminile nella storia del mondo, un tributo all'altra metà del cielo, nelle cui mani, visto il fallimento di due maschi, è riposto il futuro dell'umanità. Grazie. Grazie.